Per ridurre la mortalità di bambini, l'Italia propone aiutare questo paese economicamente. Ma credo che l'Italia potrebbe aiutare altri paesi se la situazione finanziaria sia critica? Sì, certo. Come presento l'Italia in questa conferenza credo che l'Italia potrebbe aiutare non solo finanziariamente ma anche praticamente. E sempre diciamo che l'Italia è un paese con un grande potente agricoltore. E questo paese potrebbe aiutare anche esperienze per sviluppare i paesi. Come potrebbero sviluppare i propri produttori di farmi e alimenti. E questo potrebbe essere anche la forma di ridurre la mortalità di bambini. Quando le donne sono fede con la qualità di alimenti, le donne potrebbero produrre le donne migliori. le donne migliori, le donne migliori e così via. Quali paese potrebbe essere chiusi per la sua linea di actione? Credo che dovremmo concentrare i paesi africani, perché i paesi sono in più necessità, ma per l'Italia, potrebbe essere più efficace per aiutare i paesi africani. Dicevi che il futuro del paese dipende dall'educazione dei bambini. Ma l'Italia è considerata uno dei rossi. Il Stato non è responsabile? Ovviamente il Stato è più responsabile per queste azioni. ma per l'altro, quando la comunità internazionale è sviluppata, c'è bisogno per un paese di raggiungere questo progetto. E per l'Italia, come è la Unione Europea, hanno la possibilità di ottenere un elevato livello di educazione e essere un esempio per un altro paese sviluppo.